Un padre, Michele Gallone. I fumi densi di un soffione boracifero si innalzano dalla terra arida macchiata di zolfo fino al cielo terzo. Didascalia in sovraimpressione. 2033. I sentimenti sono in vendita. È legale vendere un proprio sentimento a un'altra persona che nutrirà quel sentimento per il destinatario connesso. Non è legale vendere il sentimento nutrito da qualcun altro per sé. Per quest'ultima operazione esiste un florido mercato nero. L'esterno bar giorno. Francesco, 45 anni. Fuma una sigaretta fuori da un bar. Qualche macchina sfreccia per la strada. È mattina. L'uomo si volta e lancia un'occhiata attraverso la vetrata del locale, in cui intravediamo una bambina seduta a un tavolo. Francesco spegne la sigaretta ed entra. Interno bar. Anna, 9 anni. È la bambina seduta al tavolo. Francesco le si siede accanto, dandole un buffetto affettuoso sulla guancia. Scopriamo che di fronte ad Anna siede un altro uomo. Mario, 53 anni. Mario. Quant'era? Francesco. Lascia stare, ho fatto io. Un lungo silenzio. Anna divora distrattamente il suo cornetto. Francesco. Ci metti molto da casa tua fin qui? Mario. Un quarto d'ora. Francesco. Beh, è fattibile. Mario non stacca gli occhi da Anna. Sembra studiarla con un misto di attenzione e pudore. Mario. Sta qui la scuola, no? Francesco. Dietro l'angolo. Interno ufficio, giorno. Mario e Francesco sono seduti di fronte al notaio. Notaio. Per procedere ho bisogno di una dichiarazione sulla motivazione personale da parte dell'esercente. Francesco. Va bene. Dietro il notaio, su un monitor, scorrono alcune immagini di Anna. Mario ha uno sguardo serio e indagatore. Notaio. Per quanto riguarda l'altra parte della compravendita, sapete che le pene previste per chi vende sentimenti altrui sono severe, quindi comprenderete le ragioni della somma che vi ho chiesto. Siamo tutti convinti allora, Francesco? Sì. Mario. Ho una domanda. Notaio. Prego. Mario. In un caso simile funziona al 100%? Voglio dire, lei continuerà a sapere che non sono il padre biologico, giusto? Notaio. Questo è un problema che si pongono in molti, ma non esiste. Non ci saranno modifiche sul ricordo o sulla coscienza, ovviamente. In ogni caso la bambina sarà legata a lei. Le vorrà bene come si vuol bene a un padre. E lei altrettanto, alla sua maniera. Ovviamente agli atti risulterà soltanto l'acquisto del suo sentimento per la bambina. Francesco. E come funzionerà concretamente? Notaio. Basteranno i moduli compilati e la vostra firma digitale. La macchina farà il resto. Vediamo, ricontrollo. Scusate, ma il 21 aprile la transazione è programmata per la notte, tra il 20 e il 21 aprile, condotto a 24. Vi risulta?